Già un po' di noi ragazzi per i cavoli e benvenuti in questo nuovo video Predizioni Inter-Juventus Partita estremamente difficile ragazzi Estremamente difficile Ragazzi non la vedo facile Non la vedo facile ragazzi Dico pure questo Domani se non giochiamo bene Veniamo sconfitti ragazzi L'Inter domani non ci grazierà ragazzi L'Inter domani non ci grazia ragazzi Domani o giochiamo bene oppure Veniamo spaccati in due completamente dall'Inter ragazzi L'Inter non solo gioca in casa Anche se sarà 50% Juve e 50% Inter ragazzi Però ragazzi gioca in casa e ha giocatori molto più forti fisicamente di noi ragazzi Ovviamente De Ligt, Guardado e Chiesa ragazzi Sono tutti e tre mancanti nella squadra Ovviamente Chiesa fino alla stagione 2022-2023 ragazzi E' mancante Chiesa ragazzi Questa è una grandissima perdita E' una grandissima perdita ragazzi Senza Chiesa siamo debolissimi In un momento c'è Morata Ogni volta che tira Tira alle stelle Di Bala ovviamente è qualcosa del genere Però ragazzi di Bala bisogna ovviamente di aiuto E con Chiesa ragazzi era qualcosa in più ragazzi Però domani la vedo iper dura Almeno ragazzi è tornato in linea E questa cosa qua è un po' positiva Con il fascione in testa contro la Roma ragazzi E contro la Roma ragazzi abbiamo avuto iper fortunati Abbiamo segnato tre gol in un quarto-dora 20 minuti quello che è ragazzi Ma ve lo dico adesso Non sarà facile come è stato facile contro la Roma ragazzi Non sarà facile come è stato facile contro la Roma ragazzi Veramente c'è da svegliarci Se è da svegliarci ragazzi Sperare che Morata e Kuluseschi aiutano di Bala ragazzi Perché l'attacco domani è cruciale L'attacco domani ragazzi è cruciale Se facciamo la prima minchiata ragazzi Questi ci segnano ragazzi L'Inter domani non scherza L'Inter domani non scherza ragazzi È cruciale vincere Comunque penso che finisca Comunque penso che finisca 2-1-1 Penso che finisca Zeko per l'Inter Ovviamente pareggio di di Bala E 2-1 ancora lui di Bala Doppezza di di Bala E ci regala finalmente Almeno questa stagione qua ragazzi Un trofeo da vincere ragazzi Però lo vi dico ancora una volta Sarà estremamente difficile ragazzi Mettetecela tutta ragazzi Combattete fino all'ultimo E forse ragazzi Dico solo forse Milano sarà bianco nere ragazzi Per domani siete ragazzi Voglio Milano bianco nere Cioè ragazzi forcivi sempre Fino alla fine ragazzi Dobbiamo vincere questa partita ragazzi È obbligato a vincere Zero minchiate e 100 vittorie Cioè ragazzi forcivi sempre Dai ragazzi Dai 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 Ciao a tutti Grazie.